Trasportare l'acqua con delle tubazioni che abbiano una durata di 140 anni è un sogno o una realtà? È assolutamente una realtà, grazie a TRM, un'azienda austriaca che produce tubazioni in ghisa sferoidale da oltre 70 anni. Noi trasportiamo acqua, la trasportiamo dai monti fino alle case degli utenti. Il nostro focus principale è quello di utilizzare tubazioni ad altissima qualità con un'elevatissima durabilità. La cosa interessante è lo continuo sviluppo della nostra azienda. Noi cerchiamo sempre di sviluppare nuovi rivestimenti esterni al fine di ottenere e di allungare la vita di queste tubazioni. Tubazioni in ghisa che già sono comunque oltre 100 anni utilizzate nel trasporto di acqua potabile che con le nuove tecnologie, con i nuovi rivestimenti esterni ci spingiamo fino ai 140 anni di durata. Siamo qui al Festival dell'Acqua Bressanone e dobbiamo parlare anche dei vostri interventi sugli impianti di innevamento. Assolutamente, TRM direi che è il leader da anni nel trasporto di acqua ad altissima pressione, parliamo fino a 100 bar per l'acqua che viene poi trasportata al generatore neve per poi realizzare e produrre la neve considerata neve tecnica e non neve artificiale poiché è acqua pura, acqua potabile, trasportata in tubazioni che trasportano l'acqua potabile fino al generatore neve, quindi chiamiamola acqua tecnica o programmata.